Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria gravissima, che si ripercuote su tanti aspetti della nostra vita. Anche il mondo della scuola è stato coinvolto, ma la didattica a distanza è stata dando una continuità al bisogno formativo dei giorni. L'istruzione è un diritto che non deve conoscere, barriere sociali, né economiche né tanto mani informatiche. Lo Stato ha stanziato dei fondi per supportare la didattica a distanza, ma anche noi possiamo dare il nostro contributo per quanto riguarda la connessione. Adesso possiamo costringirci un abbraccio virtuale, un abbraccio che dà solidarietà e partecipazione. Possiamo creare una rete di sostegno per garantire a tanti ragazzi di continuare a studiare la didattica. Consentire lo stipendio vicino di casa e soffrire della propria condizione come fai garantirebbe la continuità didattica a che si trovano in difficoltà. In questo momento non c'è bisogno di essere vicini, uniti sui dati, anche perché perché andrà piuttosto bene, ma soprattutto con essi ce la faremmo spesso.